una cena di natale non mi ricordo bene che anno fosse so che stavo andando a caccia da un mese con la furia selvaggia e l'ardore delle passioni nuove mi trovavo in normandia nella casa di un parente celibe jules de boreville solo con lui e la governante il servitore e il custode del castello ereditato il castello una vecchia costruzione grigiastra circondata da abeti scricchiolanti nel bel mezzo di lunghi filali di querce dove galoppava il vento sembrava fosse abbandonato da qualche secolo soltanto i mobili decrepiti abitavano nelle stanze sempre chiuse dove una volta le persone di cui erano visibili i ritratti appesi in un corridoio pieno di vento come i viali ricevevano con molte cerimonie i nobili del vicinato quanto a noi c'eravamo rifugiati vicino alla cucina nell'unica parte abitabile del castello una cucina immensa di cui oscure e lontane pareti si rischiaravano quando si gettavano dentro al camino nuove fascine tutte le sere dopo una dolce sonnolenza vicino al fuoco quando i nostri stivali fradici avevano fumato ben bene e i cani da ferma acciambellati tra le nostre gambe avevano sognato una nuova caccia abbaiando come sonnambuli salivamo nella nostra camera era l'unica con soffitto a intonaco a difesa dai topi ma era rimasta nuda solamente imbiancata a calce con i fucili guinzagli e i corni da caccia appesi alle pareti si infilavamo tremando nei nostri letti ai due lati opposti di quella capanna siberiana a 4 km in linea d'aria dal castello la scogliera cadeva a picco nel mare e i soffi potenti dell'oceano facevano gemere giorno e notte ai grandi alberi curvi i gocciolari d'umidità il tetto e le banderuole animali di suoni tristi tutta la vetusta costruzione che si riempiva di vento dalle tegole sconnesse dai camini ampi come burroni dalle finestre che ormai non chiudevano più quel giorno c'era stata una gran gelata la sera era discesa ed eravamo in procinto di metterci a tavola davanti al gran fuoco dell'alto camino in cui stavano arrostendo uno stinco di lepre e due pernici dal grato profumo mio cugino sollevò la testa e disse non farà caldo quando andremo a letto con indifferenza risposi no di certo ma domani mattina troveremo le anatre nella palude la domestica che apparecchiava per noi a un capo della tavola e per i servi a quell'altro domandò i signori sanno che stasera è la vigilia di natale non ne sapevamo assolutamente nulla in quanto non guardavamo mai il calendario allora questa sera c'era messa di mezzanotte disse mio cugino per questo le campane hanno suonato tutta la giornata la domestica replicò sì e no signore hanno suonato perché è morto il vecchio furnel il vecchio furnel che un tempo faceva il pecolaio era una celebrità locale a 96 anni non era mai stato male fino al giorno in cui un mese prima aveva preso freddo essendo caduto in un fosso durante una notte buia si era messo a letto il giorno dopo e da allora era stato in agonia mio cugino si voltò verso di me se vuoi possiamo andare a trovare quella povera gente alludeva la famiglia del vecchio cioè il nipote di 58 anni e sua moglie più giovane di un anno la generazione intermedia se n'era andata da parecchio tempo abitavano in una miserabile casuccia all'inizio del villaggio sul lato destro non so perché ma in quell'abisso di solitudine sapere che era natale ci fece venire voglia di fare quattro chiacchiere l'uno di faccia all'altro ci raccontavamo episodi di veglie passate di avventure in questa notte di follie delle conquiste fatte e dei risvegli il giorno seguente i risvegli in due con il rischio delle sorprese e lo stupore delle scoperte fu così che la cena si prolungò assai seguirono parecchie pipate e presi da un'allegria da solitari allegrie comunicative che nascono improvvisamente tra amici molto intimi parlavamo in continuazione cercando dentro di noi per rivelarci quei ricordi confidenziali che ci sfuggono nei momenti di effusione sentimentale la domestica che se n'era già andata da tempo si fece vedere di nuovo signore vado alla messa di già sono le undici un quarto giù il propose e se arrivassimo fino alla chiesa è curiosa sai la messa di natale qui in campagna accettai e uscimmo bene avvolti nelle nostre pellicce da cacciatori un freddo acuto fungeva il viso sino a far lacrimare gli occhi l'aria gelida stringeva i polmoni e pizzicava la gola arida il cielo profondo nitido e solenne era crivellato di stelle che il gelo aveva fatto impallidire scintillavano non come fuochi ma come astri di ghiaccio come cristalli brillanti lontano sulla bronzia terra arida e sonora risuonava il rumore degli zoccoli dei contadini e da tutto l'orizzonte le argentine campane dei villaggi diffondevano esili rintocchi quasi frettolosi nella grande notte ghiacciata la campagna era deserta alcuni galli ingannati dai rumori cantavano passando rasente le stalle si sentivano muovere le bestie turbate da quei clamori di vita mentre ci avvicinavamo al villaggio jules si ricordò di fournel disse ecco qui la loro baracca entriamo bussò a lungo inutilmente una vicina stava uscendo per andare in chiesa e ci vide sono andati in chiesa a pregare per il vecchio li troveremo all'uscita disse mio cugino sulla linea dell'orizzonte si profilava la luna calante netta come una piccola falce tra tanti granelli luccicanti buttati a manate nello spazio e da ogni parte della campagna buia avanzavano focherelli tremolanti verso l'aguzzo campanile da cui proveniva uno scampanio continuo fra le aie alberate delle fattorie in mezzo ai campi oscuri quei piccoli fuochi danzavano sfiorando la terra erano lanterne di corno che i contadini portavano davanti alle loro mogli in cuffia bianca avvoltolate in lunghi mantelli neri e seguite da bimbi mezzo addormentati che si tenevano per mano nella notte si vedeva il coro illuminato dalla porta aperta della chiesa tutti intorno alla navata c'erano sistemate in giro ghirlande di candele da un soldo e in una cappella a sinistra un florido bambin Gesù metteva in mostra per terra su vera paglia e in mezzo a rami di abete la sua leziosa rosea nudità cominciava la funzione i contadini pregavano ricurvi le donne in ginocchio la gente semplice rianimata dal freddo notturno guardava con commozione l'immagine dipinta grossolanamente e giungeva le mani con ingenua emozione intimidita dal modesto lusso di quella rappresentazione puerile l'aria gelida faceva fremere le fiammelle Jules mi disse usciamo si sta meglio all'aperto mentre i contadini inginocchiati battevano con devozione i denti noi ricominciamo a rievocare ricordi nella strada deserta quando tornamo al villaggio la messa era finita un filo di luce trapelava da sotto la porta dei furnell stanno vegliando la salma disse mio cugino entriamo un attimo da questi poveretti saranno contenti nel cammino si stavano spegnendo alcuni tizzoni la stanza oscura tinta dalla sporcizia con le travi tarlate tenerite dal tempo era invasa dall'odore soffocante di sanguinaccio arrostito nel centro della grande tavola sotto la quale per tutta la sua lunghezza si sporgeva come un'epa rigonfia la madia era una candela che faceva allungare in un candeliere di ferro ritorto il fumo acri del suo lucignolo a fungo su su sino al soffitto i due furnell marito e moglie seduti l'uno di fronte all'altra consumavano il cenone di natale incupiti l'espressione triste e la faccia attonita dei contadini mangiavano seri seri senza preferire parola in un solo piatto posto tra loro due una gran porzione di sanguinaccio esalava il suo odore pestilenziale ogni tanto ne prendevano un pezzetto con la punta del coltello lo spalmavano sulle fettine di pane e infine masticavano con lentezza quando il bicchiere dell'uomo era vuoto la moglie prendeva la brocca del sidro e glielo riempiva al nostro ingresso si alzarono in piedi ci fecero sedere si offrirono di far loro compagnia nel pasto e al nostro rifiuto ricominciarono a mangiare ci fu qualche attimo di silenzio poi mio cugino domandò sicché vostro nonno Antim è morto? sì signore poco fa tornò il silenzio la donna smoccolò la candela per cortesia verso di noi allora tanto per parlare io feci era proprio vecchio la donna che era sui cinquantasette commentò aveva finito il suo tempo e ci stava ancora a fare qui all'improvviso mi venne voglia di vedere il cadavere di quel centenario e domandai di farmelo vedere i due contadini tranquilli sino ad allora si turbarono subitamente si interrogarono a vicenda con sguardi preoccupati ed evitarono di rispondere vedendoli inquieti mio cugino insistette allora l'uomo chiese a sua volta con tono sospetto e guardingo a che serve guardarlo proprio a niente disse Jules ma è una cosa normale perché non ce la volete far vedere il contadino si strinse nelle spalle per me non importa solo che è un'ora brutta facevamo mille supposizioni e poiché i nipoti del defunto continuavano a rimanere immobili uno di fronte all'altra occhi bassi con quella cocciutaggine delle persone mal disposte che sembra sostituire un'andatevene via allora mio cugino fece ricorso alla sua autorità su Antim alzatevi e portateci in camera sua ormai rassegnato l'uomo fece il muso lungo e rispose non ce n'è bisogno non è più lì signore ma dov'è allora la moglie pose la parola di bocca ad Antim ve lo dico io dov'è sino a domani l'abbiamo messo nella madia non c'era altro posto pose di mezzo il piatto col sanguinaccio sollevò il piano del tavolo si chinò con la candela a illuminare la parte interna del cassettone spalancato nel fondo c'era un ammasso grigiastro una specie di lungo fagotto da quale spuntavano da un lato una testa magra con i bianchi capelli arruffati e dall'altro due piedi scalzi era il vecchio tutto rinsecchito con gli occhi chiusi e avvolto nel suo mantello di pastore dormiva là dentro l'ultimo sonno tra vecchie croste di pane scuro centenarie come lui i nipoti avevano fatto la cena di natale sopra di lui indignato e tremante di rabbia jules proruppe perché non l'avete lasciato nel suo letto ma scalzoni che non siete altro la donna allora cominciò a frignare e a parlare velocemente ve lo dico subito caro signore in casa abbiamo un letto solo e prima dormivamo insieme con lui visto che eravamo in tre da quando si è ammalato noi due abbiamo dormito per terra ed è dura signore mio in questa stagione e così quando è morto ci siamo detti adesso che ha finito di penare a che serve lasciarlo nel letto fino a domani possiamo metterlo nella madia e noi ci riprendiamo il letto in questa notte che fa tanto freddo non potevamo mica dormire assieme al morto cari miei signori furibondo mio cugino si alzò di scatto sbatté l'uscio e io gli andrei dietro ridendo fino alle lacrime